Ortega, palla lunga alle spalle della difesa per Amparo che ci arriva e poi scivola Sulla banda per Domenichetti Ancora all'indietro per Amparo Dalla villa un po' di spazio, palla per l'1-2 con Domenichetti che non riesce Si trova la palla lì Guidotti che è di sinistro La insacca, 1-2 Peke con Ion subito da sola davanti alla porta Vediamo il tiro, smanaccia Samira, arriva Guidotti, palla subito Vediamo la giocata di Montesilvano, palla per Amparo sulla fascia Rimessa laterale, 10-23 Montesilvano in vantaggio con doppio gol Ma attenzione qua si mangia il gol Ion Ora palla lunga per Amparo che ci arriva di testa Cerca di superare in altezza il famoso tunnel Busta diventò famoso soprattutto fuori da Lazio e da Roma Perché lo portò Arianna Pomposelli Ecco, questa è la grande verità della Busta fuori da Lazio Silvetti, il tiro! Oh, un'occasione! Dove essere trovato Entrata Sergi, eccola sulla banda col suo mancino all'indietro per Amparo Ancora dall'altra parte per Sergi Al centro per Nicoletti che porta avanti la palla La butta sulla banda per Amparo Classica giocata, confiondata al centro Si ritrova la palla lì, Nicoletti tira, smanacciata Sulla banda per Gasparini Ancora dall'altra parte del campo Vanessa ha un pochino di spazio per andare Invece appoggia per Peche Recuperà benissimo il Montesilvano Si butta Ortega Di punta Le chiude lo specchio della porta Ribella La pressione invece del Montesilvano Che chiude il centro Silvetti e lascia la banda Infatti recuperà proprio palla lì Amparo sulla banda 1-2 meraviglioso tra Silvetti e Amparo Palla dentro per Vanessa Salva Ganfili Rimessa a laterale Peche gira subito per Vanessa Che è sola Può tirare Samira ci mette Due secondi Penso che qui metterà la palla dentro Il Sinai Cerca Vanessa dietro Il tiro 1-1 Gran gol Proprio sulla Peche dall'altra parte Per Gasparini Palla dentro Tentata da Gasparini per Peche Ma si infila Si infila Amparo Poi Troiano Una mischia Non si capisce bene Linea per Nicoletti Benissimo Tenta un numero Poi si appoggia alla compagna Silvetti Silvetti per Amparo Palla per lungolinea Per Amparo Con la parallela Butta dentro questa palla Giocata Classica del Montesilvano Ma riparte in contropiede Peche davanti a Samira Puntata Il miracolo di Samira Che dice no Partita questo unico Big match di oggi Vediamo entrata Sergi E all'indietro per Ortega Si fa Si allarga per farsi vedere Ma Ortega la nega E butta questa palla Al centro pericolosa Per Vanessa Che allarga per Peche Di punta Dentro Ancora Samira si salva in angolo E salva in questo momento Al posto di Silvetti Ed Ortega E proprio L'ex estate Nicoletti ad impostare Palla di spalle Per Amparo Un po' in difficoltà Con la pressione di Vanessa Che appunto Leva ancora sotto Peche Recupera appunto il pallone Dopo una bella pressione Il sinistro Samira Si distende Ora Palla per Fanti Che la protegge di spalla La sua la cerca Di rimetterla dentro E sbaglia Perché regala Un dolcetto A Troiano Che però Amparo Per Troiano All'indietro Ancora per Amparo Guidotti Tra le linee Cerca Domenichetti Ma non la trova Riparte Vanessa 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 In stalla Il tiro Tocca Con le dita Samira Canfili E metta Ora Guidotti Supera subito Una linea Passaggio dentro Per Sergi Che però Arriva morbida Su questo pallone Fa su il pallone Il sinistro E palla per Gliola dentro Qui il grande Grandissimo Miracolo di Samira Canfili Ortega Palla lunga Cerca Ramparo Che la mette Giù di Mancino Ma non le riesce Perfettamente Il controllo Quindi Vanessa Cerca di pescare Peke Peke viene trovata Poi da Ion Incredibile ragazzi Incredibile Peke Adesso Vanessa All'1-2 Con Peke No ragazzi No ragazzi Che cosa abbiamo Marchio di fabbrica Suolata Cerca la palla dentro Ma Nicoletti Addirittura è A dare fastidio Quasi Ora Peke cerca Di Attenzione Miracolo Di Ribeiro Bellissimo Vediamo Adesso Infatti Come accennavamo Poco fa Il portiere di movimento Per il motto Per il motto Sivalo Che Però Lo mette In un momento No Infatti Peke Cerca Per il motto Per il motto Per il motto